Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, domani mattina tra le 9.30 e le 10.30 è in programma Corri per la Befana nella zona di Via Lemonia, deviazione per 9 linee di bus durante la gara, il collegamento 654 sarà sospeso, sempre domattina tra le 10.00 e le 13.00 la Corsa del Giocattolo a Villa Borghese con un cambio di percorso per 9 linee di bus. E domani e domenica pedonalizzazione festiva per Via dei Fori Imperiali con una deviazione per i collegamenti bus 51, 75, 85, 87 e 118. Questa notte e domani notte si sposta Grazie per la visione! Grazie! Grazie!